Amici del grande calcio, bentornati su Senza Giri di Parole, io sono Biazzaku Io sono Tatsuno Amico mio, il calcio è così, la dura legge del pallone Se tu ti chiami Borussia Dortmund Eeeh, che ne so, Napoli Oppure Arsenal E devi giocarti l'ultima partita con la squadra che storicamente ha vinto tutti i campionati Da undici anni, undicesimo campionato, ha vinto il Bayern Monaco consecutivo Tu Avete E' proprio 100% così E c'è stato un clima surreale in questa partita Cioè il Dortmund arriva All'ultima giornata Con la possibilità di giocarsi Un campionato in casa Contro il Mainz Al nono posto Il Mainz che aveva fatto Quanti sconfitte consecutive aveva fatto il Mainz Che io sto vedendo tutto russo qua Andiamo a vedere in diretta, regà Quattro sconfitte consecutive Arrivi a giocarti la partita col Dortmund Il Bayern dall'altra parte con il Colonia Cioè Dopo 20 minuti se non erro Ma vado a vedere bene e preciso i minuti Perché li voglio Sì ma anche prima Perché io se non sbaglio Proprio 20 minuti 24 minuti Stai perdendo 2-0 Rigore sbagliato Da Waller Da Waller 2-0 Stai perdendo Poi si fa male Da Deiemi Entra Royce Ovviamente ti stai giocando la partita Senza l'infortunato Bellingham Se non sbaglio era infortunato No era squalificato Perché non stava giocando Bellingham? Ma sai che io non mi ricordo Perché come mai Bellingham non stava giocando Non stava giocando Sì Bellingham si è fatto male Si è fatto male Infortunato Ma stava già E la perdi Cioè 2-0 Tutta la partita Che aveva Che hanno attaccato Come dei pazzi Bung de Bung Non sono riusciti mai A fare quel dannatissimo Gol del 2-1 Poi nel secondo tempo Arriva il gol di Guerreiro Se non ci fanno Guerreiro Boom L'ha buttato dentro Tramende non colpite suo E dall'altra parte Dicimi dalla fine Arriva la comunicazione Che il Colonia Va a segnare l'1-1 Con il fallo di mano Di Sanese Una cosa clamorosa Tutti quanti a esultare Da 4 minuti alla fine Gol di Musiala Dio di gol Esagerato Però Giustamente Dall'altra parte Fanno quello che dovevano fare Il Bayern doveva vincere Se voleva puntare al titolo Era fatto alla fine E il Dortmund invece Si fa Addirittura Riescono a fare Il 2-2 Con Sule Con Sule Alla fine Con quel tiro di sinistro Tutto deviato 2-2 Che l'arbitro Poi non fischiava Secondo me Gli voleva far fare Il terzo gol Vabbè facciamo Facciamo l'ultima azione Vabbè L'ultima azione Alla fine Perché gli ha fatto pena Perché non è possibile Penso Una città In lacrime Stanno ancora piangendo Perché una maledizione Una maledizione clamorosa Erano 13 anni Se non sbaglio Sì Era dal Dortmund Klopp Che non riuscivano a vincere E diciamo che Peraltro Loro potevano approfittare Non tanto Di una loro stagione Meravigliosa Perché vabbè Figuriamoci Ma proprio del fatto Che il Bayern Era allo sbando Quest'anno Soprattutto A un certo punto Cioè Quando se ne va Nagelsmann Inspiegabilmente Perché poi Tuchel Mette mano Alla squadra Però Perde con Con il Leverkusen Perde col Magunza Perde con il Lipsi A Parigia Con l'Hoffenheim Cioè Apre la strada Ad una competitor Di andare a vincere Il titolo E E non lo sfruttano Per niente La partita più decisiva Cioè Se c'è una Napoli Tedesca È proprio Borussia Dortmund Solo che Borussia Dortmund Devo dire la verità Ce la sta mettendo tutta Per essere La regina Perché E poi Eccolo qua L'andamento Cioè Il Bayern È partito da primo Poi è arrivato Addirittura Al quinto post Poi è risalito È ritornato primo Invece Il Dortmund Tutto Il campionato Tra Ad oscillare Dalla quinta posizione All'ottava posizione Alla seconda posizione E poi nel finale Era passato In vantaggio Quindi Come hai detto Bene tu Cioè non è che hanno fatto Un campionato Dove hanno dominato E quindi Tipo l'arsenal E poi se l'hanno L'hanno perso Alla fine Si sono ritrovati lì Comunque Hanno fatto I stessi punti Del Bayern Monaco E qua poi Voglio dire una cosa E E quindi Alla fine Il percorso È stato simile L'unica differenza È stata La differenza Reti E qua Sinceramente Un po' come Ha fatto la Serie A Un po' Tutti i campionati Dovrebbero Cambiare Questa regola Perché sinceramente Alla fine Sono arrivati A pari punti E vince Il Bayern Monaco Semplicemente Perché ha fatto Più Più gol Ed è un po' Secondo me È ingiusto Perché È come Cioè perché tu devi Premiare La squadra Che fa più gol Cioè alla fine Pure la fase Difensiva È una cosa Che ti fa Vincere Perché tu devi Premiare la squadra Che fa più gol Ci sono due Stili differenti Due idee Differenti Due filosofie È giusto Che tu Se due partite Se due squadre Si trovano Allo stesso Sì Gli stessi punti Devono giocarsela Quindi fai una bella Partita Testa a testa E chi vince Si prende il titolo Questo è soprattutto Vero per un campionato Come la Bundes Che Si è già Abbreviato Perché loro C'hanno 18 squadre Quindi 34 partite Per cui Anche se ne gioca Uno in più Se ne giocano Comunque tre in meno Rispetto agli altri campionati Quindi non credo Che avrebbe scombustato Il calendario Delle squadre tedesche Anzi Ma È il metodo Più giusto Anzi Meno male Che l'hanno messo Pure in Serie A Perché Ste cose succedono Poi arrivi A pari punti E mo Cioè Alla fine hanno fatto I stessi punti Però il Bayern Vince Perché ha fatto Più gol Per la differenza È ingiusto Secondo me Il Borussia Dortmund Allora io come al solito Cerco sempre di trovare Il bicchiere mezzopino Anche se è difficile Cioè io Ripeto Fa molto più male Quello che è successo All'Arsenal Al Dortmund Certo Ti ritrovi In quella situazione È normale che Devi sfruttarla Però l'Arsenal Era stato Tutto il campionato Primo E poi se l'è fatta Fuggire alla fine E quello Secondo me Fa molto più male Perché tu ti sei sentito Primo Per tutto questo tempo Invece il Dortmund Primo Ci è arrivato Alla fine Del campionato Quindi diciamo Che se l'è pure Un po' ritrovato Come detto Bene tu Però perché Il Bayern Monaco È stato Non il Bayern Monaco Non è stato Il Bayern Monaco Lo solito E si è ritrovato Alla fine Poi Ad avere Questa possibilità Poi il Bayern Gli basta poco Per vincere Lo vincere Una da undicesima Volta Come se Purtroppo è così Peraltro Quest'anno Loro perderanno Per l'ennesima Volta Giocatori Importanti Su tutti I Bellingham Che andrà Al Mareal Quindi Ti rimani un po' Perplesso Perché per carità Terzi C'è un allenatore Giovanissimo Arriva dal Dalla primavera Del Borussia Per l'appunto Quindi era Anche la sua Prima stagione Ad altri Legli La prima stagione In Bundes Però Se è vero Che da alcuni Punti di vista Il Borussia È una squadra Giovane È anche vero Che poi È sempre Una squadra Troppo giovane Perché poi Quelli che Fanno Una buona età E hanno conquistato La buona esperienza Se ne vanno sempre Quindi a te Rimangono sempre Quelli che sono Troppo giovani Per imparare qualcosa Forse è quella La più grande Disfatta Del Borussia Perché Il punto del Borussia È io me li cresco E poi li vendono Appena loro mi chiedono Di essere venduti Perché tanto io non c'ho Problema Io me li cresco Con la speranza Che comunque Io sono lì Quando il Bayer Non fa 90 punti Io sono lì Vado a vincerla io Se invece tu non riesci A sfruttare neanche queste occasioni Allora è una squadra Che non vincerà mai più Ma secondo me poi La cosa più grave Della filosofia Del Borussia È che li vendono A Bayer Monaco Ma vendili È una squadra Cioè Tu devi rinforzare La tua concorrente Cioè E poi spesso Se li riprendono Dopo che non hanno funzionato Hummels Non ha funzionato Sule Non ha funzionato Goz Goz ha fatto Ananziare Tu sei voto Vabbè Vabbè Tu sei un fatto È una cosa tutta loro Vabbè Comunque A un certo punto Io voglio dirlo Questo ragazzo Che è entrato Che L'avevo visto qualche volta A giocare Ma mai Così tanto tempo Durantville È una forza Della natura Ci faremo un video Sicuramente Mi è piaciuto Ma tantissimo Cioè A 17 anni Questo ragazzo è entrato Ma con una personalità Una personalità clamorosa Clamorosa Tutti quanti Ma assurdo Cioè Tutti quanti Vabbè Mukuoka ha fatto Una partita eccezionale Pure lui Però Addirittura Royce è entrato Anche se non stava Al meglio fisicamente Però è entrato E non è riuscito Ad avere quella Quella Freschezza Invece Durantville Ogni volta Prendere il pallone Puntava Cioè Proprio Vinicius E vabbè Ci sta Ci faremo sicuramente Un video Poi un'ultima cosa Che volevo dire È su Coman Ma ti ho capito Che Coman Credo che sta Facendo un record Secondo me così Cioè Lui da quando Ha iniziato A giocare A pallone Da professionista Ha vinto Tutti i campionati A cui ha partecipato Cioè 12 titoli È arrivato A 26 anni Con 12 titoli Andiamo a vedere Kingsley Coman Effettivamente Lui vinse pure Quei due campionati Al Parì Senza giocare Troppo Una presenza Fatta Una presenza Al primo anno E due presenze Al secondo anno Col Parì 12 titoli Cioè Questo è il palmarès Di Coman A 26 Ha vinto La Champions League Ha vinto Quella Champions League Come MVP Della finale Ha vinto La Coppa del Mondo Per Club Ha vinto La Supercoppa Diciamo che Sei volte Campione di Germania Ma non lo so Se l'hanno contata Già Sì L'hanno già contata Poi Campione d'Italia Con la Juventus No Otto volte Campione di Germania Scusa Otto volte Campione di Germania Una volta Campione d'Italia Due volte Campione di Francia No si è fatto Due stagioni Alla Juventus Quindi deve essere Due volte Si sono dimenticati Di segnare Eh sì Perché lui è stato Dal 2014 Sì dal gennaio 2014 Fino al 2015 Quindi si ha vinto Due scudetti Però Non ci dimentichiamo Che l'affare L'hanno fatto La famiglia Agnelli Aveva fatto La plusvalenza Che ha fatto La plusvalenza Di 25 milioni Se non sbaglio Ma no Di meno Di meno Che 25 Puoi considerare Che era Che era 28 Il costo Che hanno pagato Quelli del Bayern Quindi Vabbè ci sa Bello Vabbè ragazzi Questo video Finisce qui Fateci sapere Cosa ne pensate voi Con un commento Lasciate un like Se il video è piaciuto Iscrivete E attivate la campanella E noi ci rivediamo In un prossimo video Viva il calcio E noi ci rivediamo E noi ci rivediamo E noi ci rivediamo